E lo sapete cosa vi dico? Che io mi diverto, io mi diverto molto. Voi non avete idea di quanto io mi possa divertire a mettere su raro terzino. Perché se voglio inizio a invertire i nuoli. Così. E vi metto anche buffoni in attacco, vi metto. E non solo. E non solo. A seconda che mi giro o no. Col Barcellona. Metto anche Chiellini trequartista. È bellissimo, quello è bellissimo. Poi gli do il numero 10. Capito? Dai su, almeno una volta. Dai, Chiellini trequartista. No ma guarda che lo faccio davvero. No. Lo faccio davvero, fidati. Con lo Sporting, Sturano terzino e col Barcellona. Chiellini fantasista. Però è perso un po' di... E se anche voi volete Chiellini fantasista, mettete like al video. Se arrivo a 70.000 like, lo metto davvero. Eh boiade, lo metto davvero. E seguite l'autogor su YouTube e iscrivetevi al loro canale. Boiade.